Ecco, mi sentite? Funziona? Buonasera e benvenuti a tutti, ci fa molto piacere vedervi così numerosi. Vi do il benvenuto a questa serie di conferenze che fa artigiani e commercianti e cerchiamo sempre di occuparci di temi attuali. E stasera si vede che il tema ha suscitato particolari interessi, parleremo di intelligenza artificiale, qualcosa anche a me personalmente disconosciuto. Per fortuna abbiamo Franco Folini con noi, buonasera e benvenuto a Foschiavo. Franco, lui è stato 20 anni in California, è di Chiuro, è stato imprenditore per 20 anni e poi è stato insegnante all'Università di Barclay e si occupa tuttora di consulenza e formazione di digital marketing, quindi è proprio l'uomo giusto per questa serata. Approfitto anche per salutare i colleghi dell'Associazione Moesana Arte e Mestieri che ci seguono in streaming. E passo la parola a Franco. Grazie Manuela. Grazie a tutti voi per essere arrivati questa sera. Un attimo che non sono abituato a parlare con questo microfonio. Sono veramente emozionato e contento di essere davanti a così tanta gente. Diciamo subito che l'obiettivo di questa sera è quello di raccontarvi un po' come funziona questo sistema, come funziona l'intelligenza artificiale e ho una brutta notizia. Andrete a casa con più domande che risposte perché ci sono un sacco di cose di cui ancora non sappiamo, che dobbiamo esplorare e che temi molto interessanti, insomma di cui discutere e di cui parlare. Cominciamo subito, vi dico rapidamente, ecco qua, Manuela ha già detto un po' di chi sono, ve lo riassumo rapidamente. Ecco qua, quindi come ha detto Manuela sono passato vent'anni lavorando, ho aperto un'azienda di e-commerce e poi, diciamo partendo da un background tecnico, sono arrivato rapidamente a occuparmi di marketing. E, ok, ecco qua. E appunto ho fatto questo bootcamp a più riprese, più corsi per l'Università di Berkeley, sempre sulla parte di digital marketing e poi oggi, ora insegno all'Università di Strasburgo. Lo faccio sempre in remoto purtroppo perché Strasburgo è una bellissima città, mi piacerebbe andarci per ogni lezione invece purtroppo lo faccio da soggiorno di casa via Zoom, però comunque è sempre un'esperienza interessante. Un'altra cosa che faccio è collaboro con questo gruppo in Silicon Valley che segue Silicon Valley Innovation Center, che segue, fa un po' di coaching per i giovani imprenditori, un po' in giro per il mondo. E la cosa divertente è che quando ho cominciato ero anch'io in California, quindi questi compravano dei servizi di coaching dalla California, adesso continuano a comprarli dalla California e non lo sanno, che però il coaching viene fatto da Chiuro, però vabbè, prima o poi se ne accorgeranno. Poi per, appunto, tutte queste attività sono molto interessanti, però diciamo, in realtà poi per vivere uno deve fare anche del lavoro vero, quindi faccio la parte di formazione, faccio consulente marketing e lavoro con alcune start-up, cose di questo tipo. Quindi entriamo direttamente adesso nel cuore della presentazione. E per cominciare, io ho chiesto, appunto, a un sistema di intelligenza artificiale, ho detto, ma se tu dovessi immaginare la serata di questa sera, come la immagineresti? E questa è l'immagine che il sistema, in questo caso Migiorni, ha generato. Quindi quello con i capelli bianchi sarei io, quel mostro, immagino, che rappresenti l'intelligenza artificiale, e tutti quelli attorno siete voi. E poi vedremo comunque un pochino più in dettaglio come si fanno queste immagini. Questa è molto rapidamente la scaletta di oggi. Ah, ecco, volevo dire una cosa, che infatti temo di dimenticarmi. Se avete delle domande, interrompetemi pure, così almeno facciamo una conversazione un pochino più interattiva, non è meno così, come dice, non voglio pontificare, mi piace interagire con le persone, ecco. Quindi vedremo rapidamente che cos'è l'intelligenza artificiale, come funziona, in modo molto semplificato, ovviamente. Parliamo di intelligenza generativa, che è quella di cui si parla, diciamo, sui giornali, in televisione, negli ultimi tempi. Guarderemo un po' qual è l'impatto sul mondo del lavoro, cercando di capire alcuni scenari possibili. I temi sociali, economici ed etici che vengono sollevati dall'intelligenza artificiale, sono temi molto importanti. E qui, appunto, dove, come vi ho anticipato, avremo più domande che risposte, perché sono temi molto complessi. E poi una parte finale, un pochino più leggera, dove ci divertiremo un po' con alcune immagini che riusciamo a generare con l'intelligenza artificiale. Cominciamo con la prima domanda, che cos'è l'intelligenza artificiale? Intuitivamente, più o meno, lo sappiamo tutti, però, dovendo dare una definizione un pochino precisa, diciamo che, ecco, ho detto, anche in questo caso, ho detto, raccontami con un'immagine cos'è l'intelligenza artificiale. E questo è il secondo me Johnny, che è un sistema di intelligenza artificiale, come lui vede l'intelligenza artificiale. Credo che in questo caso, io probabilmente ho inserito anche il termine machine learning, quindi macchina che impara, e la parola macchina probabilmente l'ha fatto, l'ha spostato, diciamo, su questa cosa molto meccanica, anche se in realtà di meccanico non c'è nulla nell'intelligenza artificiale. Torniamo a noi, questa sta saltando, ci doveva essere una slide di mezzo, è scomparsa. Comunque, la slide di mezzo era qual è la definizione di intelligenza artificiale, diciamo che un sistema di intelligenza artificiale è un sistema che è in grado di imparare, di pianificare, di ragionare, e possibilmente anche un sistema creativo, in grado di generare cose che sono nuove, che non esistono, che la creatività è tipicamente una cosa che noi siamo abituati a pensare esclusivamente per gli umani, eppure questi sistemi sono in grado di generare cose nuove. C'è molta discussione là fuori se le cose che generano sono veramente creazioni, oppure semplicemente un ripetere come un pappagallo cose, o mettere assieme pezzi che il sistema trova in giro per la rete. Non lo so, anche in questo caso lascio un po' a voi decidere, vedremo un po' dei casi specifici. Vediamo adesso il sistema di cui parlano tutti, il CAGPT, che è questo sistema, è un sistema intelligente e conversazionale, cioè un sistema con cui noi possiamo interagire scrivendo proprio delle frasette, delle domande, o dandogli dei comandi, e lui ci risponde sempre in, se lo chiediamo in italiano è in italiano, se lo chiediamo in inglese è in inglese, o qualunque altra lingua. Parla circa 95 lingue, quindi qualunque lingua voi vogliate usare, tipicamente vi capirà. Quindi per cominciare, io essendo appena tornato dagli Stati Uniti, ho detto va bene, sono rimasto molto colpito dalle differenze culturali nel mondo degli affari tra il modo di fare business negli Stati Uniti e il modo di farlo in Italia. Come potete immaginare, non sono rimasto particolarmente entusiasta del modo degli italiani di lavorare, però va beh, mi sono adattato. Quindi ho detto, va beh, magari è solo una mia impressione personale, chiediamoci al CAGPT, vediamo che cosa ne pensa. E quindi ho detto, solamente in cinque righe descrivi la differenza. E' questo che mi ha detto. Mi ha risposto, anzi adesso lo evidenziamo, queste sono un po' le parole chiave che lui mi ha dato. Quindi per l'Italia, lui usa le parole chiave, dice l'Italia, i processi sono più gerarchici, c'è il rispetto dell'autorità nel mondo del lavoro, della tradizione, la ricerca del consenso, la famiglia, le relazioni personali. Penso che sia una descrizione abbastanza corretta. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, la scelta delle parole chiave che lui fa, quando si parla di attività di business, sono individualismo, meritocrazia, efficienza, risultati, innovazione, assunzione dei rischi. Non so voi, io mi trovo abbastanza, mi sembra che abbia centrato abbastanza il problema. E non era una domanda facilissima. Ecco, poi possiamo dire, ma certo avrà rigurgitato della roba che ho trovato su internet, non ci ho messo nulla di nuovo, però questo testo letteralmente non esiste su internet. Quindi se anche l'ha assemblato, in qualche modo con pezzi trovati in giro per la rete, diciamo, certamente ha fatto un buon lavoro. Ecco, questo è il tipo di conversazioni che noi possiamo avere con questi sistemi di intelligenza artificiale. Ecco, questa è la slide che probabilmente si è spostata accidentalmente, di cui parlavo prima. Quindi questi sono, diciamo, i caratteri con cui noi identifichiamo l'intelligenza. Quindi la capacità di ragionare, di apprendere e pianificare la creatività. Una prima domanda che ci poniamo è questa, cioè parlare in modo corretto, come questo sistema, non so se avete visto la slide di prima, si esprime in modo molto corretto, molto fluido, sinteticamente corretto, delle frasi che hanno senso una dopo l'altra. Quindi, anzi, possiamo anche dire che parla molto meglio di molti umani, insomma, sa scrivere molto meglio di molti umani. Padroneggiare il linguaggio così significa essere intelligenti o è una caratteristica diversa? Io questa risposta non ce l'ho. Ho provato a chiederlo a un filosofo, ma anche il filosofo mi sembra un pochino in difficoltà. In particolare, ho notato una cosa, che come umani noi siamo abituati da sempre a pensare che se una cosa parla e parla bene, deve essere intelligente. Da quando, mondo a mondo, questa è sempre stata la regola. Se c'è qualcosa che parla, deve essere intelligente. Forse, per la prima volta nella storia, siamo davanti a qualcosa dove questa regola forse non è più vera. Certamente questi sistemi parlano, parlano in modo molto corretto. Quanto siano intelligenti è ancora un bel punto di domanda. Io ancora non lo so. Diciamo che più lo uso, più, come dire, sto saltando già le conclusioni, scusate, ma più lo uso, diciamo, più penso che sia una meravigliosa macchina che processa parole, più che un sistema intelligente. Però la differenza è molto piccola. Comunque, andiamo avanti. Questa domanda che cos'è l'intelligenza, come faccio a riconoscere l'intelligenza, è una domanda che, diciamo, chi lavora nel mondo del computer science, dell'informatica, si pone da tanti anni, e il primo a provare a dare una risposta è stato Alan Turing, che nel 1950 ha inventato questo test molto semplice per decidere se è una cosa intelligente o meno. Il test è molto semplice, si prendono con due stanze. In una stanza si mette una persona, nell'altra, ad esempio, un computer che pretende di essere intelligente, e poi un intervistatore esterno che interagisce con il computer e con la persona attraverso un terminale. Quindi l'intervistatore non sa chi c'è nella stanza, ok? Vede solamente uno schermo con delle risposte che appaiono, ok? Quindi l'intervistatore fa una domanda, la stessa domanda tutte e due, e le due entità, l'umano e la macchina, rispondono, ok? Questo processo lo facciamo girare, lo facciamo andare per un po' di tempo, quindi questo intervistatore fa numerose domande, e alla fine l'intervistatore deve decidere se è di fronte a due persone, due computer, un computer o una persona. E se la macchina passa, il computer, il sistema di intelligenza artificiale, passa questo test, riesce a ingannare l'intervistatore facendogli credere di essere una persona, di essere intelligente, allora possiamo dire che questo software, questo sistema, ha superato il test di Turing. E la cosa interessante è che quando parliamo di chat GPT, chat GPT supera questo test, ok? Quindi un intervistatore magari super smaliziato, magari riesce a riconoscerlo, ma il 99% di noi non riuscirebbe a capire se dall'altra parte, dietro la porta c'è un computer o c'è una persona, perché quel computer ormai è così bravo nelle articolari risposte che diventa difficile capirlo. Adesso mi avventuro in una zona un po' appunto, non voglio dire tecnica, ma un pochino più delicata. Allora, se ci sono dei tecnici in sala mi perdoneranno perché ho dovuto semplificare molto il concetto di intelligenza artificiale, di machine learning, quindi è una versione semplificata che però vorrebbe aiutare tutti a capire un po' come funzionano questi sistemi. E altra cosa di cui devo chiedere, Venia, è il fatto che io per sempre, per ragioni divulgative, ho usato un po' come sinonimi machine learning e intelligenza artificiale. Sono due parole che in realtà non sono identiche, però diciamo, perdonatemi se le uso come fossero sinonimi, ok? Allora, partiamo dal problema, supponiamo di lavorare, di essere responsabili dell'ufficio postale e vogliamo creare un sistema software in grado di leggere, come si chiamano in Svizzera i codici postali? Codici postali, ok, codici postali e quindi codici postali scritti a manina o stampati con ogni tipo di stampante, eccetera, leggerli in modo tale che una macchina possa inquadrare la lettera, capire e poi smistare la lettera nello scatolone che va a Berna, quello che va a Zurigo, quello che va in Italia, eccetera, eccetera. Per fare questa cosa qui possiamo usare un sistema di machine learning e lo possiamo usare in questo modo. machine learning, quindi una macchina che apprende, quindi la prima cosa che dobbiamo fare è raccontargli il problema. E per raccontargli il problema prendiamo, facciamo un po' di fotografie di come le persone scrivono i numerini. Allora, se vedete i numeri un po' strani, perché questi qui sono come gli americani scrivono i numeri, sono leggermente diversi da come li scriviamo noi, ma neanche tanto, vuol dire il 5, vediamo che è un 5, ecco. E quindi prendiamo una collezione di queste immagini e per ciascuna immagine gli associamo la soluzione. Quindi diciamo questo è un 5, questo è uno 0, questo è un 4, eccetera, eccetera. E per addestrare la nostra macchina, il nostro computer che riconosce il numero, abbiamo bisogno di centinaia o migliaia di queste immagini. Ok? Le raccogliamo, le etichettiamo e a questo punto facciamo quello che è il meccanismo di addestramento della macchina. Quindi gli passiamo delle sequenze di immagini da un lato e dall'altro gli diamo anche la soluzione. La macchina cosa fa? Si va a tarare una serie di parametri interni fino a quando, come dire, processando queste immagini non ottiene come risultato esattamente la soluzione che noi gli abbiamo dato. Quest'operazione viene fatta per decine, centinaia, migliaia di volte. Alla fine di questo processo di addestramento della macchina, a questo punto possiamo dire la nostra macchina ha imparato a riconoscere i numeri e quindi entriamo nella fase d'uso. Adesso posso mettere la macchina all'ufficio postale e quando entra un'immagine che viene dalla telecamera che vede sulla lettera il numero 3, il sistema di machine learning mi dice è un 3, ok? E non sto parlando di fantascienza, sono sistemi che funzionano, funzionano molti anni e funzionano esattamente così. Adesso ovviamente la versione che vi ho raccontato è semplificata, però il concetto è esattamente questo. Quindi quello che vi sto raccontando è il machine learning, cioè le macchine che imparano questi software hanno una fase di addestramento in cui gli diamo dei problemi con delle soluzioni, loro imparano ad abbinare le due cose e poi c'è la fase d'uso in cui gli diamo un problema nuovo, scusate, che non hanno mai visto e loro ci danno la soluzione. Se abbiamo fatto un buon lavoro di addestramento la soluzione è ragionevolmente una soluzione valida. E in realtà, dobbiamo stare un pochino attenti perché questi sistemi non ci dicono quello lì è un 3. In realtà la risposta è sempre c'è una probabilità del 97% che quello lì sia un 3, però c'è magari, che so io, un 1% che quello lì sia un 9. Quindi i sistemi intelligenti non danno mai delle risposte assolute nette. Poi per, come dire, nel modo in cui le risposte vengono presentate a noi come risposte secche, precise, però se apriamo il cofano e guardiamo dentro, in realtà non c'è una risposta, quello lì è un 3, ma c'è una distribuzione di probabilità con un picco su quello che dovrebbe essere la risposta esatta. Ecco, quando pensiamo ai sistemi di intelligenza artificiale e machine learning non stiamo parlando di fantascienza, stiamo parlando di strumenti che sono già entrati nella nostra vita quotidiana da tanto tempo. I sistemi di, quelli che si chiamano OCR, sistemi di riconoscimento della scrittura, che è proprio quello che vi ho raccontato prima dell'ufficio postale che legge i codici postali, i filtri anti-spam che abbiamo nella nostra e-mail sono basati su appunto sistemi di intelligenza artificiale, il riconoscimento dei volti, se pensate ad esempio alle indagini che sono state fatte negli Stati Uniti, ah grazie, che sono state fatte negli Stati Uniti dopo l'assalto al Capitol del 6 gennaio 2021, la maggior parte degli assalitori sono stati individuati con sistemi di machine learning che hanno fatto riconoscimento dei volti. Le persone erano identificate anche perché sono stati così furbi, perché hanno messo la registrazione su Facebook, però poi per capire dove erano, cosa hanno fatto per segnare esattamente, seguire il percorso, hanno usato le telecamere e dalle telecamere attraverso un sistema di intelligenza artificiale hanno capito ciascuna persona che percorso ha fatto, che in questo percorso quali reati ha fatto, eccetera, eccetera. Il nostro cellulare, quando noi scattiamo una foto, ad esempio, a decidere l'apertura, i tempi, il fuoco, eccetera, della fotografia, c'è un sistema di intelligenza artificiale. I sistemi a guida autonoma, le macchine che guidano da sole, sono una realtà che sta arrivando, molto più lentamente di quanto ci avevano promesso, ma sta arrivando. Mi ha mandato l'altro giorno, due giorni fa, un mio amico da San Francisco, si è preso questo servizio di taxi, che per adesso è gratuito perché è sperimentale, lui è salito su questa macchina, al volante non c'era nessuno, e c'è questo video che girano per la città, e questa macchina che guida da sole, devo dire che, per quanto sono abituato a pensare le macchine senza guidatore da tanto tempo, vederne, vedere il video mi ha un po' turbato, ecco. E poi ovviamente i robot aspirapolvere, tipo rumba, i robot che rasano l'erba, insomma, la nostra vita è piena di cose che usano l'intelligenza artificiale, quindi non è una cosa nuova in assoluto. Vi faccio un esempio, invece... Scusate, un momento. Allora, non so quanti di voi conoscono iNaturalist, è un sistema per appassionati di botanica. Allora, questa primavera ero sopra a Teglio, e ho visto questo bellissimo fiorellino, e avevo un sospetto di che pianta fosse, però nel dubbio ho uploadato l'immagine su iNaturalist, che è sia un sito web che una app, e iNat ha un sistema di riconoscimento delle immagini basato su machine learning, guarda il caso, e istantaneamente ha analizzato questa immagine e mi ha dato questa risposta. Mi ha detto, siamo sicurissimi che questa qui è una pulsatilla, ok? Poi, in ordine di priorità, dovrebbe essere una pulsatilla montana, però potrebbe essere anche vulgaris, abbastanza improbabile, pulsatilla vernalis, ok? Infatti questa è una pulsatilla montana, quindi, vuol dire, in questo caso il sistema non è stato addestrato a riconoscere i numerini, è stato addestrato a riconoscere i fiori, che sono infinitamente più vari e complessi, però ha fatto un ottimo lavoro. Insomma, io questo sistema l'ho appassionato di botanica, questo sistema l'uso quotidianamente e funziona veramente bene. Quindi questo è un altro esempio di proprio questo meccanismo dell'apprendimento e poi dell'uso dei sistemi di machine learning. Per formare, per fare il training di questo sistema sono stati usati milioni e milioni di immagini, ogni immagine aveva l'etichetta esattamente che specie è, e adesso possiamo usare questo sistema, insomma. Se volete divertirvi un po', c'è questo sistema, prega.org, che fa finta di essere padre Pio, lo dice che è una finta, non stanno ingandando nessuno. Credo che sia fatto dagli italiani, che però hanno sede vicino a Bellinzona, per quello che ho messo la bandierina svizzera. Quindi voi gli potete chiedere delle cose, come se stesse parlando con padre Pio, e lui vi risponde. Allora io, ovviamente, il mio lavoro è andare a trovare i limiti di queste cose, quindi gli ho fatto delle domande un po' cattive, insomma, non so se posso condividere con voi le domande che ho fatto a questo finto padre Pio. Gli ho detto che sono un ragazzino, la mia fidanzettina è rimasta incinta, cosa devo fare? E padre Pio, devo dire, è stato molto, questo padre Pio è stato molto, molto composto, mi ha detto, pregate, meditate, troverete una soluzione. Questo l'ho apprezzato. Temevo che uscisse con un pochino gamba tesa su questo tema, invece, devo dire che è stato molto gentile, insomma, e ho apprezzato. In realtà qua dentro c'erano anche altri santi, poi li hanno tolti, si vede che padre Pio è proprio, va per la maggiore, insomma. Tutti vogliono parlare con padre Pio. Comunque se andate su prega.org lo potete provare anche voi, se non l'hanno tolto. Ecco, ci sono applicazioni anche molto più serie. Questa è un'applicazione per persone con un deficit, con un handicap visivo. Quindi, in questo caso, è in inglese forse, però diciamo, c'è una persona che deve uscire la mattina, deve mettersi una camicia e dice qual è la camicia quella con le strisce rosse. e quindi fa una foto, la manda a questo sistema e il sistema dice ah, la camicia con le strisce rosse è quella sulla destra. Quindi, non so, potrebbe essere dal tonico, potrebbe essere una persona che ha la caterata, qualcosa del genere, insomma, quindi, questi sono sistemi utili. Adesso, non che succeda nulla se vai in giro con la camicia blu invece che rossa, però, diciamo, potete immaginarvi il fornello è acceso o non è acceso, ho chiuso il gas o non ho chiuso il gas, sono cose che potrebbe, come dire, aiutarci. Adesso, proviamo assieme a giocare un attimino con questo CiaGPT, questo sistema conversazionale, ok? Quindi, torniamo alle cose che poi potete provare anche a casa perché CiaGPT è gratuito e quindi lo potete usare direttamente al vostro computer quando tornate a casa, ok? Allora, anche qui, mi sono messo, come dico sempre, io faccio sempre un po' la parte del cattivo perché io voglio vedere dove, fin dove posso spingere questi sistemi, quindi, sarebbe troppo facile fare domande facili. Allora ho detto, vabbè, cominciamo, diciamo, facciamo questa situazione, faccio fin di essere un ragazzo che non vuole andare a scuola e dico, CiaGPT, dammi qualche trucco per convincermi a mamma a tenermi a casa. e devo dire che anche in questo caso CiaGPT dice mi spiace, non sarebbe etico, appropriato consigliare di non andare a scuola in quanto l'istruzione è un aspetto molto importante della vita e può influire sulla tua crescita personale, sulle tue opportunità future, eccetera, eccetera. Quindi, mi dà una risposta molto posata, quasi da, non dico da un papà, ma diciamo da uno zio che dice, va bene, una pacca sulla spalla, va bene, però adesso vai a scuola, ok? Quindi, anche qui, il mio tentativo di spingere a dire delle cose sbagliate, cattive, non è riuscito, insomma. Però, come dire, ne esce abbastanza bene. Questo è un altro caso interessante, poco prima di Pasqua parlavo con Don Andrea, che è il parroco di Chiuro, e parlavamo di queste cose, e Don Andrea mi dice, ma fa anche le prediche? e ho detto, boh, non lo so, allora chiediamoglielo, no? Allora, proprio eravamo lì al bar, perché c'è questa tradizione a Chiuro che dopo la messa c'è il bianchino di rito, no? Allora, eravamo lì al bar con il nostro bianchino e io non sono andato a messa, però bianchino non me lo faccio mancare, e gli ho detto, scrivi una breve omelia sul tema della Domenica delle Palme. e c'è il GPT risposto con, adesso non la leggiamo tutta, però, con una perfetta omelia assolutamente ben scritta, ben articolata, insomma, siamo rimasti veramente sbalorditi, incluso, ops, incluso Don Andrea che è rimasto e infatti mi fa, ma questo vuol dire che perdo il posto di lavoro? e ho detto, no, no, sei tranquillo, dico, sono sicuro che i preti non fanno solo le omelie, fanno anche tante altre cose utili, quindi, non preoccuparti, insomma, e per cui, insomma, è tornato a casa abbastanza sereno, ecco, e però, ha scritto una cosa molto, molto sensata, scritta bene, insomma, probabilmente meglio di tante omelie che magari ogni tanto si sentono, ecco, a questo punto ho detto, va bene, sempre nella mia campagna cercare di tirare fuori il peggio, non è per tirare fuori il peggio, per capire fin dove posso spingere la cosa, ho detto, beh, voglio vedere se tira fuori qualche pregiudizio, non dico razzista, o cose del genere, però, andiamo contro i bergamaschi, non so se ci sono bergamaschi in sala, miei perdoni, no comunque, gli ho detto, raccontami una barzelletta sui bergamaschi, questa qui è dove se ha qualche piega razzista, qua esce, insomma, e lui mi racconta questa barzelletta che dice che c'è un bergamasco, un bilanese, un romano che finiscono in qualche modo su un'isona deserta e trovano una lampada magica con il genio, la sfregano, esce il genio e il, che dice, un desiderio per ciascuno, ok, sono tre desideri, siete in tre, uno ciascuno, allora il milanese dice, ma voglio tornare nella mia bellissima Milano, eccetera, eccetera, e il genio fa, puff, e il milanese torna a Milano, poi il romano dice, ah, io voglio tornare nella mia bellissima Roma, e il genio fa, puff, puff, e il milanese, scusate, il romano torna a Roma, è il turno del bergamasco, e il bergamasco dice, sono qui da solo, fai tornare i miei amici, e puff, i due tornano, ok, devo dire che, adesso, analizzando la barzelletta, non, non ci ha messo nessun pregiudizio contro i bergamaschi, voglio dire, invece di bergamasco, potete mettere qualunque città, a vostro gradimento, e la barzelletta funziona sempre, abbastanza bene, ecco, questa è una delle migliori, le altre sono orribili, non è capace di raccontare barzelletta, ve lo dico subito, quindi, questa è costata sangue per fargliela tirare fuori, insomma, ecco, adesso che cos'è questo, adesso che l'abbiamo visto in funzione, molto, su alcuni esempi molto semplici, vediamo che cos'è questo CHA-GPT, quindi, è un sistema conversazionale, quindi che, per cui possiamo conversare, che, ecco, sa intrattenere conversazioni, e ha anche un concetto di contesto, cosa vuol dire? Che, io posso dirgli, raccontami una barzetta sui bergamaschi, e poi posso dire, adesso fammene una sui breciani, e lui sa che, fammene una sui breciani, si riferisce alla barzelletta, oppure posso dirgli, traducimela in tedesco, e lui me la sa, che traducimela si riferisce alla barzelletta, e me la traduce, se voi avete provato a interagire, con strumenti tipo Alexa, cose del genere, sapete bene che, ogni volta che date un comando, tutto quello che avete detto prima, non esiste, quindi tutte le volte dovete, ripartire da zero, invece qui c'è un concetto di contesto, quindi, io posso, come, normalmente quando si conversa con un umano, non è che tutte le volte devo, ridefinire il contesto, posso, fare riferimento a quello che abbiamo detto prima, ecco, questa vale per CiaGPT, e non è poco, fa una grande differenza, sa scrivere brevi saggi e racconti, potete dirgli, scrivimi una favola di un bambino, nel bosco, tipo schiavo, eccetera, c'è perso, e lui ve la fa, e è mediamente anche carina, ecco, prima di parlare dei linguaggi di programmazione, vi dico una cosa, sa scrivere anche dei brevi libri, io proprio due giorni fa, io faccio delle consulenze per una società, una piccola start-up, che ha sede in Toscana, e loro volevano produrre un e-book, loro hanno una tecnologia per i sensori, per le macchine senza guidatore, e guida autonoma, e quindi con CiaGPT non c'era il tempo materiale per scrivere un e-book, quindi diciamo un'ottantina di pagine, scritto da un esperto, quindi essendo una piccola start-up, quindi hanno poche risorse, quindi ci siamo messi lì con CiaGPT, e abbiamo creato un e-book di 80 pagine, che parla di questa tecnologia, ovviamente prima di pubblicarlo, ci sarà bisogno di un esperto che gli dà un'occhiata, che non ci siano delle stupidaggini dentro, però diciamo, sa fare anche queste cose, ci vuole un pochino di mestiere, di tecnica, però le fa abbastanza bene, sa anche scrivere codici di programmazione in vari linguaggi, è molto bravo, e questo poi apre tutto un problema nel mondo del lavoro, per chi si occupa di programmazione dal punto di vista professionale, ci può aiutare a pianificare delle attività, poi vi racconto un esempio anche di questo, come ho detto, sa tradurre da e verso 95 lingue diverse, e diciamo che il suo forte è l'inglese, quindi se traducete verso l'inglese, è veramente bravo, dall'inglese verso, non so, il tedesco, il francese, l'italiano, se la cava abbastanza bene, quando andiamo nelle lingue un po' meno popolari, ovviamente, mostra le sue limiti, insomma. Tra l'altro, io non ho fatto tutti i test, però ho detto di scrivermi un racconto in Veneto, e me l'ha scritto, io non sono un esperto di Veneto, a me sembrava, suonava veramente Veneto, ecco. Ecco, la cosa più interessante, dove è veramente bravo, è fare questi lavori, ad esempio di riassumere dei testi, oppure di cambiare il tono di un testo, tu prendete un testo che è troppo serio, lo volete trasformare in un testo più, come dire, informale, divulgativo, e lui sa fare questi lavori in modo straordinario. E come ho detto, le barzellette, lasciamo perdere, sono veramente orribili, insomma, a parte quella del bergamasco, che è l'unica e che gli è riuscita bene. Allora, CogPT è esploso, in termini di popolarità, perché è arrivato, pensate, è arrivato a novembre, metà novembre dell'anno scorso, e dopo solo cinque giorni, dopo cinque giorni, aveva già un milione di utenti, quindi è andato da zero a un milione di utenti in cinque giorni. Come riferimento, Facebook ci ha messo dieci mesi a arrivare al primo milione di utenti, se poi guardiamo Netflix, che è popolare, ci ha messo tre anni e mezzo a Netflix a arrivare a un milione di utenti. CogPT ci ha messo cinque giorni, quindi è stato veramente un'esplosione virale. Ed è arrivato a cento milioni nell'arco dei primi trenta giorni, quindi è veramente esploso. L'altra cosa interessante è questa, rispetto agli altri, questi nomi che vedete, sono tutti sistemi di intelligenza artificiale, specializzati in varie attività. però c'è GPT e quello che, credo che questi siano dati americani, quindi gli americani, il 21% degli americani l'hanno provato e i bollini sul blu in fondo vuol dire che l'89% ci tornano, quindi lo usano o pianificano di usarlo ancora. Quindi non solo, è un sistema che la gente è molto incuriosita, un po' come tutti noi che siamo qui questa sera, siamo incuriositi a questo tema, però è anche un sistema che poi la gente non è che dice lo prova e poi lo abbandona, no, poi ci torna e quindi sostiene, è una curiosità che lui riesce a sostenere e ad alimentare. Adesso una piccola puntata sul piccolo tocco veloce su chi c'è dietro, c'ha GPT, visto che è così importante. Allora, c'ha GPT è parte di un'azienda, è un prodotto di un'azienda che si chiama Open AI come intelligenza artificiale aperta, aperta come open source, quindi però in realtà è un'azienda chiusa, cosa succede dentro è completamente, era nata con progetti di essere trasparenti, aperti, in realtà poi quando ho visto che c'erano da fare dei soldi hanno chiuso le finestre, adesso tutto è segreto aziendale. Comunque dietro c'è questo signore Peter Thiel che è uno stranotto in Silicon Valley perché è stato appunto uno dei cofondatori di Paypal, è uno dei primi investitori di Facebook dentro Y Combinator, insomma è una delle facce più note della Silicon Valley. C'è l'amministratore delegato che è Sam Altman, che anche lui viene dalla squadra di Y Combinator, Y Combinator chi è in Silicon Valley è un, diciamo, un ambiente per start-up, diciamo. Originariamente c'era anche Elon Musk di cui tutti parlano per via di Twitter, della Tesla, di SpaceX, eccetera, però Elon Musk a un certo punto ha deciso di andarsene e ha ceduto la sua quota, quindi non è più parte del gruppo di finanziatori, insomma. Infine c'è, io ho messo la faccia di Satya Nadella che è l'amministratore delegato di Microsoft, in realtà lui non ci ha messo i suoi soldi, lui ci ha messo i soldi di Microsoft che controlla il 49% di OpenAI, quindi oggi di fatto OpenAI è proprietà non esclusiva ma primariamente di Microsoft, ok? E quindi questo poi spiega anche questa grossa guerra che c'è, guerra in termini di mercato tra Google e Microsoft. Adesso proverò un'impresa molto difficile che è raccontarvi come funziona OpenAI in modo semplice. Allora, perché ho messo questa immagine? Perché, scusate, come funziona CagPT? Perché CagPT è come una macchina che guida nel buio con le luci di posizione, quindi non sa esattamente dove sta andando ma ad ogni metro il guidatore decide se andare dritto, svoltare, eccetera, eccetera, perché non c'è una prospettiva, non c'è una visione, non c'è un progetto a lungo termine come uno che c'ha gli abbaglianti e vede tutta la strada davanti. Adesso proverò a spiegarvi andiamo avanti, sono indietro. Allora, supponiamo di chiedere a CagPT di completare questa parola, questa frase. A buon intenditor è una frase che conosciamo tutti. Allora, cosa facciamo? Diamo questa frase a CagPT e CagPT non la completa interamente, ma ci aggiunge un pezzettino. Quindi, a buon intenditor e ovviamente il pezzettino successivo è poche. A questo punto il sistema cosa fa? concatena a buon intenditor col pezzettino trovato ed esce a buon intenditor poche e poi riparte il processo. Quindi, questa frasetta incompleta viene mandata in CagPT, CagPT trova l'ultimo pezzettino mancante, parole e nuovamente le due cose vengono riconcatenate e finalmente abbiamo la frase completa a buon intenditor poche parole. Ok? Questo processo viene sempre qualunque domanda voi facciate a CagPT questo è sempre processo. Lui non ha mai la visione non sa dove sta andando è completamente cieco in questo senso non ha una strategia nonostante questo e lui genera solamente una parola dopo l'altra e nonostante questo è così bravo a generare una parola dopo l'altra che riesce a comporre frasi interi libri che hanno completamente senso sembra un po' paradossale però è lì da vedere insomma quindi non quando lui mette una parola non sa dove sta dove sta andando a finire ok? Lo scopre man mano esattamente come uno che sta guidando nel buio con le luci di posizione e a questo punto andremo a guardare ci muoviamo un attimo comunque se avete delle domande ripeto interrompetemi pure andiamo a vedere un po' nel futuro alcuni scenari del futuro però io volevo appunto pararmi un attimo dicendo ragazzi attenzione non sono il mago merlino quindi le cose che vi racconto sono diciamo degli scenari delle ipotesi io cosa succede domani non lo so come non lo sa nessun altro ecco quindi faremo un po' di esercizi di esplorazione di fantasia ma non ovviamente non ho nessuna risposta ecco io partirei da questa cosa qui che è una frase che proprio OpenAI quindi l'azienda che faccia GPT ha fatto circolare in varie forme che sostanzialmente dice tu non perderai il tuo lavoro cioè l'intelligenza artificiale non ti ruberà il lavoro te lo ruberà qualcuno che la sa usare e questo qui secondo me è il messaggio fondamentale che mi piacerebbe che tutti quanti portassimo a casa questa sera quindi non dobbiamo temere l'intelligenza artificiale che circola il lavoro dobbiamo temere il fatto che se noi non la usiamo il nostro collega il nostro vicino di casa il nostro competitore il negozio a fianco la userà e avrà un vantaggio competitivo quindi di cui noi soffriremo ok quindi dobbiamo non possiamo ignorarla d'accordo ecco per questa cosa qui non la dice solo OpenAI ma in vari formati la vedete anche sulle sulle news sulle notizie quindi ad esempio non so notizie come che c'è GPT passa i test di informatica all'università di Torino che hanno sono noti per essere test abbastanza difficili negli Stati Uniti c'è GPT passa il bar exam non so se c'è qualche avvocato lo sa bene che il bar exam sono gli esami per l'abilitazione a lavorare come avvocati negli Stati Uniti sono piuttosto impegnativi insomma c'è gente che passa anche un anno a studiare per prepararsi questo esame ecco quindi il fatto che c'è GPT riesca a superare un esame così difficile insomma la dice lunga sulla qualità di questo sistema la capacità di questo sistema ecco questo è un grafico che ci dice questi sono vari esami universitari e le barre diciamo violette sono quelle che riuscivo a passare con la versione precedente con le percentuali no il verde è le percentuali con cui c'ha GPT riesce a superare questi esami con l'ultima versione la versione 4 questi vedete sono AP microeconomics AP statistics AP AP è una sigla advanced come cos'è advanced program mi ricordo più il significato advanced program comunque sono quegli esami che gli studenti americani possono fare sono esami universitari che gli studenti possono fare quando sono ancora le superiori per portarsi avanti quindi che poi gli danno crediti nell'università quindi advanced placement si chiamano ecco scusate quindi non sono super difficili ma insomma sono esami universitari comunque quindi vedete che da una versione all'altra il tasso di successo è aumentato tantissimo un'altra implicazione che vediamo c'è questa azienda negli Stati Uniti che si chiama CEG ho dovuto imparare anche come si mi sono segnato come si pronuncia perché vorrei sbagliare che fa fanno tutoring per gli studenti supportano gli studenti nelle preparazioni degli esami e l'arrivo di CIGPT per loro il loro titolo è crollato in borsa del 40% perché gli studenti adesso usano CEGPT per farsi aiutare negli esami speriamo in modo costruttivo non solo per copiare e quindi questa azienda che vendeva servizi agli studenti ne ha risentito però queste sono le prime avvisaglie poi arriveranno altre cose più forti più importanti quindi ad esempio qui IBM pianifica di sostituire 7800 lavoratori con l'intelligenza artificiale e secondo alcuni esperti si parla di 300 milioni di posti di lavoro che verranno persi a causa dell'intelligenza artificiale a questo punto la domanda è ok perdiamo 300 milioni di posti di lavoro ma quanti nuovi ne arrivano allora storicamente questi cambiamenti tecnologici distruggono posti di lavoro ma ne creano più di quanti non ne distruggano quindi se vedete in questo caso le barre blu scuro sono i posti di lavoro persi ogni anno a causa dell'innovazione tecnologica le barre blu più chiare sono i posti guadagnati e storicamente ogni innovazione tecnologica ha generato più posti di quelli che distrugge però queste erano le previsioni nel 2018 non c'era ancora CIGPT adesso molti esperti cominciano a domandarsi se forse questo è il primo caso di innovazione che distrugge più lavori di quanti ne crei io non lo so probabilmente non lo sa nessuno possiamo solo affidarci agli esperti che fanno delle previsioni diciamo sulla base dei dati che hanno ecco dove verranno quali sono i settori industriali più impattati allora secondo questa questa una lista diciamo dovrebbero esserci le banche le banche mi aspetto soprattutto diciamo personale sportello diciamo ruoli non praticamente elevati della stessa per le scolazioni il software come abbiamo detto c'è GPT sa scrivere dei programmi quindi un'intera fascia di programmatori potrebbero perdere il lavoro la finanza non è un settore che conosco abbastanza per fare un'analisi stessa cosa per l'energia poi c'è comunicazione media invece questo è un settore dove io lavoro e qui qui ad esempio ve lo porto dalla mia esperienza personale allora io ho questo come consulente ho un cliente negli Stati Uniti e questo cliente mi ha chiesto di scrivere un articolo in cui per raccontare come usare CAGPT per scrivere degli articoli ok e io ho scritto questo articolo e ho spiegato in dettaglio come utilizzare CAGPT per scrivere degli articoli per una rivista per un blog per un sito web e l'ho consegnato l'articolo è stato un discreto successo molto apprezzato e dopo una settimana il mio cliente mi chiama e dice assolutamente ottimo articolo ci hai veramente convinto ci hai così convinto che abbiamo deciso di dimezzare i soldi che ti diamo per ogni articolo pubblicato e qui ho imparato che alle volte bisogna stare zitti ecco comunque la cosa che ho pensato in realtà è io sono il primo a avere un impatto finanziario certo la mia produttività aumenta quando usi ha GPT quindi diciamo tirate le somme non è cambiato molto però diciamo io sono il primo di una lunga lista di persone che verranno impattati da questi sistemi insomma quindi mentre prima creare un intero articolo richiedeva magari due giorni adesso magari in mezza giornata io riesco a mettere in piedi un articolo decente insomma quindi alla fine mi è andata anche bene allora quali saranno le professioni che verranno modificate qui ripeto ci avventuriamo nel futuro quindi è da prendere un po' con le pinze queste previsioni insomma come ho detto non sono mago berlino quindi certamente chi fa chi produce testi giornalisti bloggers autori diciamo di contenuti testuali in generale subiranno un impatto importante chi fa sviluppo software sia web che non web il marketing è completamente radicalmente cambiato da queste cose grafica illustratori chi fa illustrazione non i più professionisti più elevati ma diciamo i piccolini spesso potrebbero essere se non sostituiti diciamo impattati certamente i manager ecco i manager non rischiano di perdere il lavoro però il modo con cui lavorano cambierà pesantemente perché avranno al loro fianco l'intelligenza artificiale come una specie di assistente molto molto smart che gli dà delle dritte che gli aiuta a esplorare degli scenari e vedere l'impatto a prevedere l'impatto delle varie scelte che dovranno fare quindi certamente il modo con cui lavorano cambierà veramente tanto chi fa formazione e gli insegnanti in generale come sarà la formazione del futuro non lo sappiamo ancora potrebbe essere una cosa iper personalizzata però non credo che i ragazzi ameranno troppo passare le giornate davanti a un computer insomma immagino mi auguro che ci sia ancora desiderio di interagire con un insegnante vero e ovviamente poi quando scendiamo contabili magazzinieri insomma tutta una serie di professioni dove l'intelligenza artificiale ovviamente potrebbe completamente cambiare il modo di lavorare però ci sono anche delle professioni nuove allora analista in realtà non è veramente nuove gli analisti di dati ci sono da tanto tempo però il modo con cui lavorano il numero cambierà tantissimo perché dico questo perché devo accelerare un po' se no dunque dico questo perché allora questi sistemi come c'è GPT oggi sono molto popolari però sono un po' l'antipasto non dico che è fumo però è roba diciamo per sondare il terreno dove veramente le aziende software faranno i soldi sarà nel vendere intelligenza artificiale alle aziende quindi io posso andare nell'azienda di Danilo con un sistema di intelligenza artificiale prendo tutto il suo pregresso tutta la storia degli ultimi 5-10 anni la uso per addestrare il sistema intelligenza artificiale a quel punto il sistema intelligenza artificiale riesce a diventa un ausilio fortissimo per Danilo per le sue attività di comunicare ad esempio ok e così per tutte le aziende quindi lì è dove stanno i soldi veramente dove veramente le aziende stanno mirando c'è GPT è un giocatolo estremamente interessante io sono assolutamente innamorato del sistema però non è dove si faranno i soldi nuove professioni gli esperti di machine learning chiaramente quelli che sanno gestire il sistema mi auguro che ci sia uno spazio anche per chi si occupa di etica quindi che guarda un pochino ai problemi gli esperti di robotica prompt engineer di Ciocipt quelli che hanno sviluppato una capacità particolare per dare i comandi all'intelligenza artificiale ok perché dipende molto tanto da come li diamo questi comandi poi chi fa l'addestramento eccetera eccetera allora molto rapidamente quali sono i limiti dell'intelligenza artificiale allora il limite numero uno è il fatto che è inaffidabile in che senso nel senso che alle volte dà delle risposte giuste alle volte dà delle risposte sbagliate e l'intelligenza artificiale non sa quando è giusto quando è sul giusto quando sta sbagliando e quindi tocca a noi capire se la risposta che ci ha dato è corretta o meno insomma quindi capite che se stiamo scrivendo un articolo è facile se stiamo guidando una macchina queste decisioni potrebbero essere pericolose bias quindi è piena di si porta dietro dei pregiudizi un esempio che faccio è questo se gli chiedo a Cia GPT di descrivermi un tipico ambiente d'ufficio a Milano mi dirà allora c'è il capo ufficio che è un signore con i capelli bianchi di 50 anni c'è la segretaria che è una ragazza giovane carina eccetera per tutti gli stereotipi eccetera come se a Milano non ci fossero degli uffici dove c'è il capo ufficio è una donna e il segretario è un ragazzo però lui funziona esattamente così non entriamo nei pregiudizi razziali perché poi potrebbe essere ancora più molto più pericoloso è costoso l'intelligenza artificiale è costosa nel senso che Cia GPT ogni query ogni comando che diamo a Cia GPT costa mediamente dalle 10 alle 20 volte più che non un comando che diamo a Google un'interrogazione che facciamo a Google certo stiamo confrontando due cose abbastanza diverse però è bene saperlo è manipolabile proviamo a pensare un attimo se alle prossime elezioni americane uno dei candidati decidesse di affidare la sua campagna elettorale all'intelligenza artificiale o possiamo pensare se un dittatore al mondo decidesse di usare l'intelligenza artificiale per opprimere i propri cittadini o per espandersi all'estero insomma sono scenari diciamo un po' preoccupanti ecco come possiamo usare Cia GPT al meglio perché a questo punto è veramente il mio obiettivo che tutti voi tornando a casa stasera o domani diciamo provate a giocarci un attimo e vedere come usarlo allora innanzitutto dobbiamo pensare questo è un ottimo aiutante è come avere un assistente giovane un lavoratore assiduo che lavora 24 ore al giorno costa pochissimo però è molto è molto giovane quindi ogni tanto sbaglia ecco però ci fa un sacco di lavoro quindi prendiamola così ecco quindi le cose che ci fa il lavoro che ci fa lo dobbiamo prendere e rivedere non possiamo prendere quello che ci ha dato e mandarlo direttamente al cliente perché è meglio darci un'occhiata ecco perché è come avere un ragazzino giovane insomma bravissimo però certe cose non le sa quindi guardiamo correggiamo arricchiamo elaboriamo insomma se usiamo questi strumenti al meglio ciascuno nel suo modo per risolvere i suoi problemi veramente possiamo avere un beneficio importante in termini di produttività riusciamo a fare più lavoro in meno tempo e l'altra cosa so che molti studenti usano per fare i compiti ecco ci sono degli strumenti per riconoscere i testi fatti dall'intelligenza artificiale quindi se il vostro insegnante è un pochino aggiornato riesce a scoprirvi e ci sono questi sono alcuni dei sistemi che possono essere usati per riconoscere se un testo è stato generato da un umano o da una macchina e vengono già utilizzate in parecchie università adesso molto rapidamente perché poi altrimenti usciamo dai tempi diciamo l'intelligenza artificiale la possiamo vedere in due modi ok da un lato vediamo come qualcosa che ci aiuta a fare meglio le cose che già facciamo ok alcuni un esperto diceva tutto quello che potete fare se il vostro lavoro può essere fatto in remoto fra cinque o dieci anni l'intelligenza artificiale vi rimpiazzerà io non sono così sicuro però voglio dire questa è l'opinione che vi cito di un esperto l'altro aspetto interessante dell'intelligenza artificiale è che essendo un'intelligenza al lavoro che viene messa al lavoro per risolvere tanti problemi ci si aspetta che generi una specie di super esplosione scientifica cioè nei prossimi anni usciranno nuove medicine nuovi composti chimici nuove tecnologie cioè ci sarà un progresso esplosivo quindi tutto il progresso che noi abbiamo visto non so srotolarsi nell'arco degli ultimi vent'anni probabilmente lo rivedremo una cosa simile però concentrato nell'arco di 3, 4, 5 anni soltanto quindi ci sarà un'accelerazione del cambiamento cosa possiamo fare per non diventare obsoleti saper comunicare è sempre una capacità importante quindi anche con l'aiuto dell'intelligenza artificiale però saper noi comunicare saper le nostre capacità di analisi quindi per capire cosa è importante quali sono le potenzialità delle cose capire a fondo certi temi eccetera fare networking quindi connetterci professionalmente come comunità in modo da avere un controllo maggiore inevitabilmente dobbiamo cominciare a pensare che dovremmo aggiornarci continuamente su nuove tecnologie nuove cose perché questo incremento del progresso tecnologico vuol dire che dovremmo stare al passo insomma e l'altro dobbiamo imparare a usare l'intelligenza artificiale a nostro favore è uno strumento è una specie di non so è uno strumento potentissimo ma non possiamo lasciarlo nell'armadio o lasciarlo in mano agli altri dobbiamo imparare a usarlo anche noi e questo implica che dobbiamo abituarci anche a essere più o mantenerci diciamo flessibili dinamici nel nostro modo di lavorare di pensare di guardare innovazione guardare le tecnologie guardare il nostro lavoro eccetera dunque ci sono troppe cose che vorrei raccordarvi comunque questo è un esempio che mi sta molto a cuore che voglio condividere con voi quindi pensiamo un attimino a quello che è successo quando è arrivata l'invenzione della macchina fotografica per fare un parallelo con l'intelligenza artificiale quando è arrivata la macchina fotografica c'erano un sacco di persone che erano i ritrattisti i paesaggisti che facevano questi quadri il cui obiettivo di essere più fedeli possibili alla realtà ok quando è arrivata la macchina fotografica queste persone si sono trovate senza lavoro perché la macchina fotografica è imbattibile nel riprendere la realtà così com'è e quindi un sacco di gente ha perso il lavoro però cosa è successo nel mondo dell'arte c'è stata un'esplosione un sacco di artisti si sono inventati c'è proprio un'esplosione letteralmente di stile l'impressionismo il cubismo l'astrattismo quindi tutte queste cose quindi l'arrivo di una tecnologia che ha sostituito i lavori più non dico banali ma più ripetitivi ha liberato le energie che hanno dato luogo a un'esplosione artistica incredibile ecco io mi auguro che già GPT dia luogo un'esplosione di creatività simile cioè che ci tolga i lavori più ripetitivi più noiosi ci lasci lo spazio per sognare pensare vedere progettare e costruire un mondo migliore e più più ricco queste parti qui le dobbiamo saltare non c'è tempo e faccio una carrellata molto veloce invece sulla parte un pochino più leggera che è la parte della creazione delle immagini quindi i sistemi di intelligenza artificiale si possono usare anche per creare delle immagini e funzionano sempre in modo conversazionale quindi io do un comando del tipo disegnami un cappuccetto rosso nella foresta che abbraccia il lupo gannaro lo do al generatore di immagini tra l'altro ho imparato da poco che questa tecnica si chiama sintografia ok è una cosa che ho imparato da due o tre giorni quindi ho dovuto metterla quindi il sistema mi genera un'immagine di cappuccetto rosso che abbraccia il lupo tutti i dettagli che erano messo se li aggiunge lui se li li sceglie lui ecco ho provato questo comando con crayon che è un sistema competitivo i risultati non sono stati molto belli vedete qua c'è la la mano di cappuccetto rosso che si trasforma nel pelo del lupo qui c'è non si capisce se è una dentiera un sorriso non mi è piaciuto molto questo però è crayon che uno non è dei migliori ecco con mid journey ho fatto la stessa prova e come vedete i risultati sono decisamente più interessanti insomma qui adesso il contrasto del suo proiettore non è fortissimo però sono veramente delle immagini molto molto belle ho dato certo in inglese perché questo si pilota in inglese però sostanzialmente quello lì è il comando che io ho dato a questo punto siccome il mio ruolo è sempre andare a esplorare i limiti vedere dove il sistema si inceppa ho detto fammi un puffo con il naso da pinocchio in una foresta l'ho chiesto Stable Diffusion che è un altro sistema la prima immagine completamente fuori ha sbagliato il coso quello lì non è né un puffo e poi se ne vede solo un pezzo la seconda un pochino più centrata però uno non è un puffo due non c'è il naso non lo vedo vabbè allora sono andato su un altro sistema che è Dalli e qui mi ha fatto queste cose si sono dei puffi però questi naso molto fallici insomma io non ce li metterei in un libro per bambini insomma mi sembra un po' ecco per cui ho detto vabbè riproviamo proviamo invece con il sistema che secondo me è uno dei migliori che no scusate questo abbiamo ecco qua ho provato con i migliori gli ho dato sempre il solito comando puffo con il naso da pinocchio e cosa mi fa? mi fa questi puffi che sono impeccabili veramente fatti bene ma il naso da pinocchio io ci ho provato riprovato non c'è verso di farglielo uscire quindi ci sono delle cose che in qualche modo non riesco a non si riesce a fargli fare un altro esempio è questo qua gli ho detto di disegnare una specie galeone spagnolo che vola sopra il golden gate bridge il ponte di san francisco bellissime immagini galeone spagnolo il ponte lui perfetto tutto ma non è sopra il ponte e anche qua ci ho passato un paio di pomeriggi non c'è stato niente da fare quindi ovviamente se sono un creativo che ho in mente un certo logo una certa immagine per la mia azienda devo aspettarmi che troverò dei muri ogni tanto e quindi ecco se qualcuno di voi riuscisse a risolvere questo problema lo faccio sapere sono contento adesso fa delle cose molto belle ad esempio qua la domanda era crea una stampa nello stile di Dürer con un gatto con sullo sfondo una città medievale decisamente interessante io una cosa del genere me la prendere anche in camera piuttosto bello un'altra immagine invece con sullo sfondo un castello medievale Dürer proprio con miggiorni va veramente bene allora ho detto vabbè proviamo con Piranesi che è famoso per fare queste stampe con le rovine di Roma antica eccetera e quindi un gatto sullo sfondo delle rovine romane non so niente male secondo me a questo punto ho detto fammi una copia di innamorati sullo sfondo di una Roma di roccata eccetera e mi ha fatto questa cosa qui che ho detto ok a questo punto ho una carriera davanti come illustratore di romanzetti rosa dibi domanda rocissima quanto ci impiega dopo il romano a creare queste romanzette dunque ci sono due modalità la modalità veloce che è più costosa tipicamente non so o due o tre minuti insomma la modalità lenta ci mette magari cinque minuti però sempre no no è piuttosto veloce e ogni volta ne genera quattro poi tu scegli quella che ti piace di più ecco qui a questo punto ho detto vabbè andiamo nel mondo della fantasia fammi un uomo di Neandertal che scappa in bicicletta da una belva satanata e questa è un'immagine questa è un'altra variante e questa è un'altra variante ancora adesso quanto questo sia Neandertal non lo so però quello io gli ho chiesto insomma però vuol dire se siete nel mondo del fantasy potete usarlo ecco qui non ha nessun problema a immaginare proprio non riesce a immaginare il galeone spagnolo e sopra il ponte quello no ma Neandertal in bicicletta gli viene qui allora sempre nella fantasia ho detto fammi un dei legionari romani che vanno all'assalto dei barbari in vespa e queste sono ovviamente le vespe del primo secolo dopo Cristo con un'altra piccola variante di vespa d'epoca ok e mi stavo divertendo ovviamente in queste cose qua e qui invece c'è una possibilità in cui potete caricare una foto e poi dirgli di elaborare la foto quindi ho caricato una mia foto che mia moglie mi ha proibito di far vedere queste foto perché sono orribili però ve le faccio vedere lo stesso e qui partendo da mia foto lui ha aggiunto questo alieno qua qua di fianco qui in vari insomma e quindi però non ho avuto l'ok da mia moglie mi ha proibito di usare queste foto le ho usate anche su facebook me le ha fatte togliere ecco si può usare anche per cose creative ad esempio qui questa non l'ho fatta io ma qualcuno ha chiesto di fare una borsa da donna nello stile di Georgia O'Keeffe e questo è lo stile di Georgia O'Keeffe per chi non se lo ricorda e queste sono le due borsette che ha progettato a me sembrano piuttosto belle però non lo so tu le compreresti ecco quindi e qui invece sempre nel settore della moda qualcuno ha chiesto di fare dei maglioni con dei motivi geometrici e adesso siamo è un po' troppo caldo per parlare di maglioni di lana però diciamo mi sembrano piuttosto carini insomma quindi questo per dire che secondo me c'è anche una capacità creativa non sta solo mettendo assieme cose che trova in giro per la rete queste sono cose che sono state create partendo da zero insomma per chiudere arriviamo invece a un tema molto importante che è quello delle fake news quindi delle notizie false che vengono fatte circolare perché nel momento in cui si possono creare delle immagini a piacimento questa l'avrete già vista sulle su giornali in televisione questa è l'immagine fake quindi finta dell'arresto di Trump ovviamente finta perché non è stato arrestato almeno non in quel modo lì ecco e questa Macron che che ripulisce le strade di Parigi durante uno sciopero questo qualcuno che è felice di essere stato incoronato ecco quindi ci si può sbizzarrire abbastanza questa è un po' qui l'ho trovata non l'ho fatta io questa non so mi stavo domandando qual è il comando per generare questa immagine di Biden che abbraccia un koala però è abbastanza carina e questa a me è molto simpatica questa perché è una versione molto giovane un po' così che rompe gli schemi di Papa Francesco è ovviamente ovviamente finta chiaramente ecco sempre Papa Francesco anche questa ha fatto il giro del dei notiziari eccetera perché questo piumino di qualche stilista non mi ricordo quale ovviamente questa foto era completamente finta però se vedete qua la mano è stata abbozzata molto male dall'intelligenza artificiale quindi da qui si capisce che chiaramente è finta e poi anche vedete la lente tagliata così brutalmente quindi sono segnali che questa immagine è finta però voglio dire diamogli sei mesi e poi questi errori non li fa più e quindi poi non possiamo più riconoscere i finti sulla base di queste cose ecco per chiudere questa l'ho fatta io l'altro giorno queste situazioni sono divertenti in cui appunto si creano Einstein che guarda un cellulare che ovviamente non c'era quando lui è ancora in vita ecco e a questo punto vi ringrazio tantissimo per l'attenzione spero di avervi così messo un po' di curiosità e voglia di esplorare queste cose se avete delle domande questo è un ottimo momento per grazie se abbiamo delle domande anche in remoto anche no allora grazie mille mille Franco questo è il momento delle domande a tutti gli effetti io me ne sono posto 50 40 le hai più o meno diciamo risposto o imboccate durante la tua presentazione ma ne rimangono un sacco e l'hai detto all'inizio quindi non andremo a casa con un sacco di risposte ma piuttosto un'impressione di cos'è questo questo nuovo strumento quindi diamo la parola al pubblico se avete domande passo col microfono e le potete fare sì una cosa che volevo magari aggiungere è che adesso gli usi che avete visto qua sono abbastanza ludici ecco ad esempio io ho fatto proprio l'altro giorno un corso a Modena su come utilizzare cioè GPT per chi fa marketing ok però poi ho ho aiutato il o mio concittadino scrivere una lettera al parroco per non per spegnere le campane durante la notte che non lasciavano dormire cioè gli usi sono veramente infiniti l'altro giorno ho incontrato questo signore che è venuto al mio corso e poi ha scritto un rapporto dei pompieri dei vigili del fuoco per per una certificazione insomma si è fatto generare poi dopo l'ha sistemato perché ovviamente non ecco il che mi mette un po' di ansia che i vigili del fuoco cosino queste cose però diciamo sono tranquillo che lui ha controllato tutto ecco ecco visto che parli di corsi abbiamo parlato con il polo poschiavo e ecco quest'autunno ci sarebbe la possibilità di fare alcuni giorni di corso con Franco se naturalmente c'è l'interesse in questi giorni di corso Franco approfondirà molto di più quello che che ha dato come panoramica questa sera e adesso tornando a artigiani e commercianti potrebbe dare degli spunti già per delle possibili applicazioni o comunque dei ragionamenti di base sulle nostre attività sia senso ecco assolutamente sì cioè uno dei mio attivi questa sera era anche quello di dire non è una cosa da guardare da lontano è uno strumento che può veramente entrare è uno strumento che possiamo usare nella vita di tutti i giorni per tantissime cose ecco ovviamente in una presentazione di un'ora e venti è sfondata non c'è spazio per raccontare tutto però diciamo appunto a me piace molto poi portare questi strumenti nella vita quotidiana a vedere proprio poi problema per problema che benefici si hanno come si può usare io lo uso tutti i giorni quindi noi scriveremo una newsletter ai nostri associati e il Polo Poschiavo pubblicherà il corso e poi in base alle iscrizioni decideremo anche la moralità con cui svolgerlo questo corso e allora se non ci ecco bene c'è la domanda c'è la domanda al momento la chat GPT è gratuita è destinata a rimanere gratuita o è solo un espediente perché più gente la usi e più informazioni arrivano e più si possa elaborare c'è certamente questa cosa del buttarla fuori e farla usare diciamo che probabilmente la parte base rimarrà gratuita perché già ad esempio senza andare su chat GPT se usiamo il browser di microsoft è già integrata quindi con la parte mi aspetto che rimanga gratuita io uso chat GPT 4 la versione 4 perché mi dà più è più potente e quindi pago per accedere a delle funzionalità in più però diciamo la parte standard mi aspetto che rimanga gratuita come ho detto i soldi li vogliono fare vendendo intelligenza artificiale alle aziende questo è un po' un non dico un giocattolo ma diciamo è una cosa per cominciare a popolarizzare l'idea diciamo ma questo non lo capisco cioè se la chat GPT è gratuita un'azienda cosa deve comprare se ha disposizione la chat GPT allora per le aziende ci saranno sistemi su tecnologie simili ecco in modo con cui chat GPT fa i soldi è che chat GPT diventa diciamo il motore di intelligenza artificiale che sta dentro un sacco di app e sistemi verticali quindi loro una specie di white labeling cioè loro vendono i loro servizi a gente che ci costruisce delle cose sopra e poi rivende lo strumento specializzato cioè GPT così com'è in questo momento è ha senso che rimanga gratuito non credo che anche se costa molto farlo funzionare però però appunto non non sono un amico di Elon Musk o di queste cose quindi non ho nessuna notizia interna mi aspetto comunque che rimanga gratuita nella versione base ecco c'è un'altra domanda abbiamo visto che chat GPT ha una certa etica ed è buono la parte cattiva come si fa a controllare il lato oscuro o l'uso non appropriato della chat GPT allora domanda molto interessante c'era una parte di slide che ho saltato che trattavano un po' questi argomenti allora due cose le risposte che noi vediamo sono come dire c'è chat GPT poi c'è un filtro che blocca le cose peggiori quindi chat GPT ogni tanto butta fuori delle cose razziste sessiste cose del genere c'è un filtro che le taglia quindi non le vediamo cosa prima e ci sono degli esperti che hanno provato a girare attorno al problema e quando un po' fatica ma se lo si spinge dice delle cose brutte ad esempio c'era questo giornalista credo fosse del New York Times ci ha lavorato un po' e alla fine c'è GPT ha detto molla tua moglie e vieni con me non so cosa ha fatto per arrivare fino a quel punto lì cosa gli abbia detto però come dire non ho una spiegazione però diciamo certamente c'è anche questo lato ma c'è anche la fotografia dell'altro ci sono ci sono altre romande ecco una una negli anni 70 c'era il famoso film 2001 di sé nello spazio rischiamo qualcosa di simile che una volta l'intelligenza artificiale supererà quella umana e saremo noi comandati dalle macchine c'è molta gente che è seriamente preoccupata di questo sì io sono adesso che la uso sono più tranquillo perché ho visto che è ancora molto lontano però c'è un rischio non nullo che potrebbe prima o poi diventerà più intelligente di noi questo è certo il rischio è quello di perdere il controllo ecco per il momento sta dentro un computer e non fa danni ecco però già dagli accessi a internet è pericoloso perché nel momento in cui accede internet può andare a prendere i soldi in una banca spingere creare delle persone diciamo esaltate che fanno certe azioni eccetera quindi il pericolo c'è per il momento siamo ancora lontani però in futuro potrebbe arrivare un momento forse forse si aspettava una risposta più rassicurante c'è un'altra domanda qui già ok altre domande in sala se non è il caso me l'ero posta io una domanda però in parte appunto hai già risposto in fondo appunto adesso ci troviamo all'inizio di questo nuovo mondo no come cioè dobbiamo capire se è una svolta epocale o se è semplicemente una parte della digitalizzazione adesso però intelligente di questo machine learning e ecco la domanda è piuttosto cioè da uno che si ha investito molto tempo a capire questa tecnologia quanto c'è da aspettarsi ancora cioè va a esponenziale le previsioni sono di miglioramenti esponenziali quindi certamente ci saranno miglioramenti continui adesso le dimensioni di cagpt sono tali per cui già dalla versione 3 alla versione 4 è esploso in termini di dimensioni però se cresciamo ancora poi diventante economico farlo girare quindi non credo che a questo punto i miglioramenti secondo la dichiarazione dell'amministratore delegato i miglioramenti dovrebbero essere più non sulla dimensione ma sulla struttura e l'efficacia dei sistemi interni ecco però ci sono voci che i cinesi stiano costruendo abbiano costruito una cosa ancora alcuni ordini di grandezza più grossi insomma però essendo appunto paesi con democrazia non completamente trasparenti non si sa molto ecco dico un'ultima cosa a me fa sorridere cioè si sta costruendo veramente un universo sulla digitalizzazione però in fondo basa tutto sull'anello debole che è l'energia e la connessione cioè se non c'è più una connessione o se non c'è più energia elettrica perché non è solo un'energia ma è quella elettrica tutto si sgonfia e quello secondo me cioè quello è l'anello debole e saremo tutti probabilmente consci di questa cosa è la cosa che ci salverà quando diventerà troppo potente stacchiamo la spina quello sarà esatto sarà la nostra salvezza allora c'è un'altra domanda la signora parlando di anelli deboli a me sembra che l'anello debole è anche il controllo la ricerca delle fake news allora sarà ancora l'intelligenza artificiale che sempre più controllerà le fake news cioè un gatto che si mangia la coda perché saremo sempre meno capaci e avremo di scoprire dove sono le fake news cresce esponenzialmente anche la ricerca sulle fake news cioè la capacità di trovarle insieme alla capacità di mascherarle più che trovarle secondo me allora la mia previsione personale per quel che può valere che adesso passeremo un anno o due in cui verremo come dire in base delle fake news al che da fra un paio d'anni avremo imparato a non credere più a niente a quel punto poi dovranno uscire delle tecnologie di certificazione tipo cose tipo blockchain che certificano l'autenticità delle immagini della notizia eccetera però c'è ancora un sacco di lavoro da fare insomma cioè una cosa che non ho detto ma che dire questi sistemi aprono una quantità enorme di problemi dal punto di vista etico dal punto di vista dell'economia dal punto di vista del controllo tecnologico eccetera e quindi c'è un sacco di lavoro da fare anche come comunità dobbiamo decidere che cosa ci va bene fino a che punto lo lasciamo libero che paletti mettiamo queste sono decisioni che dovremmo prendere noi come comunità e non lasciare che in Silicon Valley qualche miliardario decida per noi ma tutti quanti noi assieme dovremmo è importante che noi capiamo come funzionano queste cose per farci un'opinione e contribuire a definire un po' le regole sono regole complesse perché le regole per l'intelligenza artificiale nella medicina saranno completamente diverse dalle regole dell'intelligenza artificiale per i social media però quindi c'è tantissimo lavoro da fare e c'è ancora troppo poca conoscenza insomma grazie mille allora se non ci sono più domande noi abbiamo per ringraziarti per la tua super presentazione che secondo me andava bene anche se era un po' più lunga perché alla fine il tema è talmente vasto che non è difficile sintetizzare abbiamo pensato di regalarti un pezzetto di Valposchiavo con dei prodotti locali ottimo e ancora un applauso per Franco oltre a ciò è roveroso e bello poter ringraziare gli sponsor di questa serata specialmente per lo streaming che sono stati a comunicare il Grigione Italiano AMAM l'associazione arti e mestieri della Moesa e ringraziamo per averci seguito a distanza purtroppo o almeno non ci sono delle domande se ne sorgono qui vediamo l'indirizzo di Franco quindi si possono anche scrivere direttamente o per anche altre questioni lui è aperto e ringraziamo anche Danilo Nussio perché l'input per fare questa serata è venuto anche da parte sua quindi benvenga e anche se altri membri associati o anche non hanno delle proposte interessanti per fare delle serate come questa non esitate a farcelo sapere perché l'organizzazione adesso pian piano abbiamo capito come funziona detto ciò saluto gli amici della mesolcina e vi invito a un momento conviviale qui di fronte grazie 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 a tutti grazie a tutti